Si chiama Erasmus Plus ed è il nuovo programma dell'Unione Europea dedicato ai settori dell'istruzione e della formazione dei giovani per il periodo 2014-2020 per sostenere le azioni di internazionalizzazione coerente alla strategia Europa 2020, indirizzato ai singoli, alle istituzioni, alle organizzazioni e alla società nel suo complesso con l'obiettivo di contribuire alla crescita del capitale umano europeo e garantire l'inclusione sociale in Europa e nei paesi terzi. Nel 2015 il programma disporrà di 1 miliardo e 736 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere la mobilità di studenti, tirocinanti e docenti, i patronariati transazionali, la riforma dei sistemi di istruzione e molto altro. 14,7 miliardi di euro invece è il finanziamento complessivo previsto nell'arco di sette anni e fino al 2020. L'incontro che si è svolto al Politecnico di Bari è soltanto il primo di una serie di appuntamenti incentrati sui temi e le opportunità dell'internazionalizzazione nella didattica così come nella ricerca, per scambiare informazioni, per creare collaborazioni e consolidare reti virtuose all'interno della rete multisettoriale e multidisciplinare del Politecnico. L'apertura verso la ricerca, il mondo del lavoro, l'innovazione, la creatività, ci sono delle azioni specifiche proprio per questi aspetti, rapporti tra imprese e anche istituti di formazione professionale per esempio. Si tratta di azioni mirate, nel senso che l'Unione Europea e il Ministero poi a seguire ci invitano a costruire per esempio dei programmi congiunti, delle lauree congiunte insieme a università straniere, sia europee che extraeuropee. E questo è considerato un elemento di qualità in generale della didattica, perché un corso di studio che si confronta con gli studenti che vengono da tre paesi e quindi deve offrire il servizio un po' a questa platea ampia, già per forza di cose deve avere una qualità dei servizi, della didattica e di tutto che è superiore alla cosa fatta in casa. Poi a questo si aggiunge anche il fatto che viene incoraggiata la costruzione di capacities, di competenze in paesi extraeuropei che ci sono vicini.